Buongiorno a tutti, lasciatemi dire anzitutto che a me l'interoperabilità e l'IFC sono costati molto cari perché avevo fatto acquistare dall'Ateneo la coppia cartacea della 16.739, l'ho persa, l'ho riacquistata in formato TIFD scaricandole dal sito ISO e la burocrazia della biblioteca mi ha detto che no, dovevo ricomprarla come cd e quindi questa mi sembra una doverosa premessa. Ecco allora chiediamoci che cosa sia il BIM, il BIM è, riprendo le parole iniziali di Piero, ritardati pagamenti, legalità nel senso di concorrenza sleale da parte di capottisti, tanto per dire, imprese che seguono altri contratti collettivi nazionali di lavoro e ovviamente complicazione amministrativa e così via, cioè è sostanzialmente un ragionamento sulla digitalizzazione che va a incidere sui fattori strutturali ed è chiaro che se non partiamo da lì probabilmente capiamo poco o niente. Questo io credo che sia assolutamente necessario, tra l'altro oggi citare il nome di Carlo Calenda vorrebbe dire dargli una intonazione di senso differente da quella che avremmo dato prima del 4 marzo, però io credo che noi dobbiamo riconoscere al Ministro la grande capacità di avere mobilitato un settore, una parte importante, ovviamente quella manifatturiera dell'economia nazionale. e tra l'altro in realtà lui l'ha fatto molto astutamente partendo dagli iper e i super ammortamenti, quindi partendo da una leva molto concreta. Ma semmai devo dire che forse il punto critico rispetto a quella procedura è che è stato compiuto un percorso a ritroso, nel senso che prima sono venuti gli incentivi, poi sono venuti i Digital Innovation Hub e solo adesso arrivano i centri di competenza. E questa è una riflessione che devo dire abbiamo fatto con Michele Tiraboschi, con Francesco Seghezzi di cui sono stato anche reviewer perché in effetti sono un po' poliedrico, ma Francesco lo vedete appunto spesso in televisione a parlare delle questioni del lavoro 4.0. Ecco, il problema è che in realtà non abbiamo ancora capito esattamente che cosa sia il 4.0, o meglio, se l'abbiamo capito abbiamo pochissime applicazioni concrete come la Bosch Rexroth per esempio di Homburg. Ma venendo al settore delle costruzioni, questa immagine che recentemente Randy Deutsch ha mostrato in un evento a Washington DC ci dice quali siano le onde dell'evoluzione digitale appunto dal CAD fino all'artificial intelligence. Tanto con Randy faremo a Brescia a settembre una summer school su BIM off-site, cioè con Illinois Institute of Technology. E quindi qui noi dobbiamo porci un problema di fondo, cioè dobbiamo entrare io credo nell'età del disincanto, non solo perché ovviamente abbiamo delle incertezze sul quadro politico e governativo, ma perché appunto come sosteneva Calenda giustamente la digitalizzazione apre un mondo di incognite. Cioè se noi non abbiamo la sufficiente umiltà per comprendere questo, tutto il resto appunto lo troviamo nei BIM Evangelist come lo troviamo negli Stati Uniti e così via. Allora, proprio adesso ovviamente non abbiamo il tempo di commentare tutto, ma l'altro giorno Phil Bernstein, che è stato vicepresidente di Autodesk ed è comunque docente di IEL, che è tra l'altro uno dei centri universitari di maggiore riflessione sulle conseguenze della digitalizzazione nelle professioni, soprattutto in quella di architetto, ci dice che questa questione dell'innovazione è una questione molto controversa, dell'innovazione digitale ovviamente, che si diciamo dibatte tra aspetti incrementali e aspetti radicali, che ci introduce in un mondo probabilistico che in realtà ci è sconosciuto, che tra l'altro come dire, fa sì che i liberi professionisti e gli imprenditori seguano intenti differenti. La parola collaborazione è una parola di fatto estranea a questo settore e quindi tutte le litanie che noi ascoltiamo sul fatto che BIM e collaborazione sono sinonimi, sì lo sono, ma allora, diciamo francamente, il BIM non è per questo settore per come noi lo conosciamo e non solo in Italia. Allora, appunto, serve un discorso del disincanto, ma soprattutto, diciamo, la questione di fondo, e sarò ovviamente molto breve, è che serve capire che cosa vuol dire digitalizzazione, perché ricordiamo che i francesi si usano la parola, l'aggettivo digital, ma usano soprattutto l'aggettivo numerique, perché digit o digitus significa numero, cioè significa entrare in una dimensione computazionale, significa avere una cultura del dato che noi non abbiamo e che forse hanno in parte alcuni nativi digitali, ma bisogna vedere in che termini. Allora, ecco, io credo che questo sia un aspetto importante. Io, ad esempio, non sono affatto d'accordo sul fatto che sia importante che le stazioni appaltanti pratichino il BIM, ci provino. Tra l'altro il decreto, Piero, non solo lo sa bene, ma ovviamente è stata che è una scelta fondamentale che abbiamo condiviso, non è un decreto dell'obbligo, è un decreto del divieto, cioè è un decreto che ti dice non puoi fare delle cose se non hai una cultura sufficiente per fare, se non hai requisiti introduttivi. Perché da un punto di vista professionale io sono molto contento che ci siano molti apprendisti stregoni, infatti ho già fatto il CTP nella prima causa BIM in Italia, quella che si è conclusa con la sentenza dell'Emilia Romagna, scusate, del TAR Lombardia, adesso preconizzo altri contenziosi. Però è evidente che se non abbiamo una pubblica amministrazione che ha una cultura computazionale, tutti i capitolati informativi del mondo saranno carta digitalizzata, saranno contenuti sacrosanti, ma ineffettuali, perché la sfida non è lì. Allora, noi sappiamo che, voglio dire, ovviamente citando Elio Borgonovi come uno dei padri della Scuola dell'Economia e diciamo delle aziende pubbliche, poi caro amico Remo Dallalonga con cui lavoro ovviamente in SDA, che ha fatto in questi anni un grandissimo lavoro di acculturamento delle amministrazioni pubbliche, soprattutto le strutture tecniche, ma noi sappiamo che a prescindere dalla digitalizzazione, a partire dalle riforme Bassanini in poi, si è parlato di accanimento, nel senso di reiterare riforme e innovazioni su però un tessuto che eufemisticamente possiamo definire resiliente, ma forse è meglio dire riluttante, e poi prima se ne è parlato. Ecco, allora, qui noi, come dire, guardate, questo è uscito ieri, Built Walls insieme a Microsoft, noi abbiamo la necessità di operare su due piani conflittuali. Noi abbiamo oggi la necessità di fare un racconto che sia contraddittorio, perché noi nel mondo dell'ambiente costruito, nel mondo delle costruzioni, abbiamo oggi la necessità di parlare di artificial intelligence e di tutte le sue declinazioni, anche prima Bruno le citava, e quindi di disegnare i scenari possibili, immaginabili, di immaginare qui l'amico Mani, con la sua spin-off, la possibilità di un cantiere in cui il confronto automatico tra, diciamo, scene da un modello 4D e scansioni ottenute da nuvole di punti permettono la valutazione semi-automatica dello stato di avanzamento dei lavori. Abbiamo questo, abbiamo quindi, diciamo, una dimensione, appunto, numerica, una dimensione computazionale e soprattutto una dimensione per cui non possiamo più guardare gli information model senza che si guardi ai data model, abbiamo tutto questo, ma dall'altra parte abbiamo questo. Abbiamo la dimensione individuale di un settore che non solo in Italia è polverizzato, come dicono i tedeschi atomisirung, quindi abbiamo, diciamo, questa polverizzazione del tessuto committente, ma qui, prima giustamente veniva citato il DPCM sulla qualificazione delle stazioni appaltanti, bisogna dire che la domanda pubblica è stata l'unico soggetto oggetto di un tentativo di aggregazione, mentre il tessuto professionale e quello imprenditoriale è tuttora assolutamente polverizzato. E quindi questa dimensione è una dimensione individuale e individualista, perché questo film ci racconta la storia di un architetto che per soddisfare le esigenze del suo committente una coppia, soddisfa, impone le proprie esigenze. E questo, come dire, è individuale, ma è anche individualista. E quindi tutto questo è poco digitale, diciamo, nei termini di integrazione e di collaborazione. Poi abbiamo però una dimensione che è quella che vedete, una foto che raggruppa gli appartenenti a uno degli uffici di HOK, che ovviamente è la grande società di progettazione, di cui fino a poco tempo fa è stato CEO Patrick McCleary, che attualmente è ancora il chairman di Building Smart International. Quindi naturalmente nella professione, nell'imprenditoria, oggi abbiamo questa duplice dimensione dell'individualità, della, diciamo, parcializzazione, dell'atomizzazione, ma anche, diciamo, di una dimensione di integrazione di rete collettiva, che però molto spesso è nascosta, è nascosta per vari motivi, a cominciare dal diritto societario, dal diritto del lavoro, e per questo che, dicevo prima, dovremmo parlare di BIM parlando di Jobs Act, per esempio, per quanto riguarda i professionisti. Ecco, allora, andando verso, come dire, il nucleo centrale di questa breve riflessione, questa che vedete qui è Dorothee Bair. Dorothee Bair è stata, fino a oggi, viceministro del federale delle infrastrutture digitali dei trasporti in Germania, oggi ha, come ministro segretario di Stato, avuto nel governo Merkel 4, il portafoglio della digitalizzazione, scusate, l'Apsus, il non portafoglio, perché è senza portafoglio della digitalizzazione. Credo che sarebbe stato il desiderio anche di Paolo Coppola, ovviamente Dorothee Bair è più affascinante di Paolo Coppola, ma... E, sostanzialmente, quello che... E, appunto, sì... Però, a mia moglie non piacciono le mimose, le ho regalate girassolo. E, però, appunto, ci sono declinazioni, sfumature culturali anche all'interno della stessa cultura, no? Ecco, appunto, Dorothee Bair, che, tra l'altro, è, come dire, destinata a un grande avvenire politico, ma noi sappiamo che in questo momento in Germania abbiamo una tripolarità, perché abbiamo il nuovo ministro Scheuer, diciamo, dei trasporti, abbiamo il signor Zeh Hoffa, che è stato, fino a poco tempo fa, presidente della CSU, che dirigerà il Ministero federale degli interni, del Heimat, che è poi il tema principale, e però anche della costruzione. E, ovviamente, appunto, abbiamo anche questo ministero. Allora, come dire, la Germania, insieme alla Francia, costituirà sicuramente, quindi, insieme a Messia Macron, l'asse portante dell'Unione Europea del futuro, secondo me noi ci stiamo candidando, ovviamente, a essere in una posizione così marginale, che persino, bastava leggere Le Monde, ieri, il signor Macron è estremamente preoccupato della nostra debolezza, perché non riuscirà, ovviamente, così a bilanciare l'influenza tedesca. Ecco, dicevo, ma noi, come dire, qui potremmo raccontarci le meraviglie dell'interoperabilità, dell'interconnessione, dei big data, dell'artificial intelligence, ma in realtà abbiamo questo doppio registro. E sappiamo che, per esempio, alla fine di questo mese, Flux interromperà i suoi servizi, perché, come dire, la gestione al mercato delle costruzioni mondiale, dei servizi legati alla gestione dei dati, a prescindere dai documenti, non paga, non è stata abbastanza remunerativa. Quindi, diciamo, qui noi, in realtà, col passo del gambero, appunto, non dobbiamo più parlare di evoluzione, nel senso classico, ma del suo contrario, cioè dalla grande trasformazione, citando ovviamente Polani, alla lenta e lunga transizione. Allora, per andare, appunto, al noccio della questione, quali politiche e quale sistema? È ovvio che in questo momento parlare di politiche è difficile, parlare di strategie è difficile, però lo era anche prima del 4 marzo. E lo era perché, sostanzialmente, e qui cito anch'io, Claudio Ederberti, tutti i tentativi di costituire una filiera unitaria delle costruzioni, sono miseramente falliti. Perché, sostanzialmente, il nostro sistema delle costruzioni è incapace di fare sistema. È un non sistema. Ed è, oltretutto, un non sistema polverizzato. Io sono unico straniero, non per, come diceva una persona, non per vantazione, ma per casualità, che faccio parte del programma francese sul BIM delle infrastrutture, programma quadriennale, sponsorizzato dall'allora, quando è nato, Ministero dell'Ambiente di Segolaine Royal, 4 anni, 4 milioni di euro, interamente finanziati da un'ottantina di soggetti che vanno da Società di Grand Paris, ovviamente a Egist, Gis, Cetec, Sistra, Buig, Vansi, EFage, e così via, dove queste persone hanno detto noi volentieri mettiamo queste risorse perché riteniamo che solo insieme possiamo avere da guadagnare. Cioè, ovviamente l'esagono ha lo split system. Noi non ce l'abbiamo. Un'ipotesi del genere per noi sarebbe assolutamente ignota. Allora, c'è una, come dire, dualità tra le retoriche e le prassi. Io ovviamente, come Stefano, dovrei dire che sono equidistante, però lasciatemi dire che invece sono equiprossimo. Ma in questa mia prossimità un posto privilegiato direi lo riserverei proprio ai costruttori, nel senso che con Ance Brescia da molto tempo, da molti anni, diciamo, stiamo lavorando su questo tema della digitalizzazione. In questo momento, come voi saprete, diciamo, Ance Brescia non ha un ruolo significativo nell'Ance Nazionale per via di, diciamo, della campagna che in me, a proposito di disfatte, ha subito Giuliano Campana. ma devo dire, come dire, noi siamo un'università territoriale con Tiziano, con Massimo, con gli amici di Ance Brescia, ecco, il tema non è il rapporto istituzionale, è, come dire, mettersi dalla parte di lavorare insieme e sapere che solo insieme avanziamo o solo insieme cadiamo. Allora, questo dobbiamo farlo al di là delle retoriche, perché la parola innovazione è una parola inflazionata, ma la nostra, come dicevo prima, è un settore economico chiamato a livello internazionale the reluctant industry. Certo, un settore che, diciamo, tutto il consensus internazionale sulla digitalizzazione vede come molto importante e quindi dove Lean e Beam dovrebbero essere fondamentali per i recuperi di produttività, perché il settore è per tradizione improduttivo, ma sostanzialmente, secondo me, dobbiamo uscire dalle retoriche, essere molto più franchi e parlare delle prassi. È evidente, ad esempio, che il tema del codice degli appalti è un tema indiscutibile, perché si è caricato di molti significati, troppi significati, che ci impediscono di andare, come dire, oltre la superficie, ma soprattutto oltre il punto di vista personale. Per esempio, il tema dell'appalto integrato è la storia di un grande fallimento complessivo, dell'incapacità di tutti, tutte le parti, sostanzialmente, a trovare questa dimensione della collaborazione e quindi, anche lì, è un'espressione inservibile, se vogliamo, da questo punto di vista. Allora, ritornando e venendo alle conclusioni, la natura di questo mondo è computazionale. I soggetti che in questo mondo probabilmente ci sostituiranno a breve sono tutti computazionali. Questo può anche essere estremamente angosciante, può anche essere estremamente riduzionista, io non me lo auguro, ma sostanzialmente questa è la prospettiva, che è anche appunto una prospettiva non a caso dove la sostituzione attraverso gli automi o attraverso gli algoritmi sostanzialmente ricorre e anche la filea CISO e CGL comincia a occuparsene per la digitalizzazione del cantiere. Ovviamente, prima è stato citato il manuale in cui Piero e io abbiamo avuto anche dello YouBeen Task Group un ruolo, sia pure diciamo modesto o meglio nell'ottica dell'umiltà così diciamo, ma diciamo l'aspirazione della commissione è quella di cercare di trovare un'omogeneità a livello comunitario e quella di creare una classe diciamo di committenti e proprietari pubblici diciamo che si possa definire comunitaria perché poi noi sappiamo che le premesse da cui è nata la direttiva comunitaria sono scarsa mobilità almeno diretta diciamo dei concorrenti nel settore tra un mercato domestico e l'altro ma ovviamente io credo che dobbiamo essere realisti e ragionare più sulle differenze che sull'omogeneità e quindi il decreto che appunto abbiamo messo a punto grazie al consenso di tutti gli operatori come Piero ricordava e che è in attesa del suo complemento fondamentale il famoso DPCM tu lo dicevi ovviamente di per sé presenta un grande punto interrogativo ma è il grande punto interrogativo del paese però è evidente che come dire a partire dalla domanda pubblica che confermo quello che diceva Piero è il più grande avversatore di questo decreto ma è un avversatore temibile perché è silente questo è il tema ma è comprensibile che sia così io personalmente come dire lo capisco mi stupirei del contrario però è come dire ovviamente l'icona della cristallizzazione in Germania sia dal punto di vista professionale sia dal punto di vista imprenditoriale tra l'altro il settore delle costruzioni è più arcaico del nostro quindi ma a livello manifatturiero è stato fatto in tutti questi anni un grande investimento sul cosiddetto mittestand digital cioè appunto sulla micro piccole e medie imprese manifatturiere ecco quindi questo è ovviamente quello che si sta facendo anche in Italia a meno finora grazie al MISE naturalmente bisognerebbe capire in che termini si possa fare anche nel nostro settore la questione è legata al rapporto tra domanda e offerta l'anno scorso Francia e Brescia ha tenuto l'Assemblea Generale sulla relazione tra innovazione e legalità quest'anno Piero Echino svilupperà maggiormente la parte ovviamente sulla legalità anche qui c'è un grande fraintendimento legalità più che corruzione è tutela dell'impresa ovviamente quindi abbiamo anche questo problema e quindi il rapporto tra domanda e offerta tra l'altro in un mondo che va non solo verso i contratti collaborativi ma verso forme partenariali di cui Remo è massimo senza altro studioso in Italia ma voglio dire è chiaro che se noi come dire questa integrazione la vediamo come collusione abbiamo qualche problema culturale però la questione di fondo qual è dice Lorenzo Bellicini stiamo entrando non nel settimo ciclo edilizio ma nel primo ciclo dell'ambiente costruito quindi è un problema diciamo di metriche come misuriamo perché poi noi abbiamo visto che i load che tra l'altro poi a livello CEN oggi vengono chiamati LOIN cioè level of information need sono utili ma in realtà non hanno futuro contrattuale sino a che non saranno non a caso davvero misurabili non ci saranno diciamo dei criteri mensori adeguati e allora qual è la conclusione sappiamo che a breve ci sarà ovviamente una call della commissione in particolare della DG Grow sulla piattaforma digitale europea che naturalmente andrebbe per le costruzioni che naturalmente andrebbe ad aggiungersi a quelle già esistenti ovviamente l'Italia ha un'idea in mente non slegata a quello che è stato detto prima però anche qua noi dobbiamo chiederci che cos'è una piattaforma perché da una parte una piattaforma è una forma ad esempio di disintermediazione alla Uber in Francia esistono diverse piattaforme la più famosa è quella che peraltro io conosco direttamente che si chiama Homely You promossa da Saint-Gobain che è una piattaforma di disintermediazione digitale tra i cosiddetti artisani cioè i micro imprenditori e i micro clienti per tendenzialmente la riqualificazione che tra l'altro ovviamente a seguito anche di un piccolo conflitto con la FFB cioè appunto la Federazione Francaise di Batimont ha trovato diciamo così un riconoscimento da parte della rappresentanza ma è evidente che c'è questa conflittualità tra nuove imprenditorialità e vecchie e antiche imprenditorialità allora per concludere qual è il futuro dell'imprenditorialità oltre che della professione il tema è un tema identitario sui soggetti i soggetti non vorrebbero essere confusi cioè vorrebbero mantenere una distinzione ma la digitalizzazione non glielo permetterà non glielo permetterà non nel senso ovviamente che ci scambieremo i ruoli ma nel senso che cambieranno i sistemi di responsabilità la capacità di condividere i punti di vista appunto quella collaborazione diciamo mitica di cui si parlava ma il problema vero non sta nei processi non sta negli autori cioè non sta appunto l'architetto di cui si parlava prima che è così tanto autore da come dire smentire l'esigenza dei suoi clienti sta nei prodotti immobiliari perché quando noi parliamo di edifici cognitivi oltre che di cantieri cognitivi parliamo come dire di una dimensione inedita come dicono i britannici beyond bricks and mortar che sostanzialmente è basata sull'industria di servizio sull'intangibile cioè è un processo questo che per un costruttore è innaturale è innaturale non per solo per l'artigiano ma anche per vancy è innaturale cioè il costruttore ha questo DNA ma come dire il problema è che accanto al ciclo di vita dei cespiti tra l'altro non solo immobiliari ma anche infrastrutturali noi oggi poniamo il ciclo delle vite delle persone cioè noi oggi andremo poi in Italia con maggiore anzi esperienza di lavoro in quel caso ecco questa è come dire la prospettiva certo dall'altra parte appunto Patrick McLean ancora ieri a Barcellona diceva appunto noi dobbiamo temere i soggetti esterni che vengono a sostituire cioè è chiaro che a parte che questo potrebbe essere uno spauracchio ineffettuale ma è chiaro che nessuno verrà mai a sostituirci questo è il problema purtroppo perché non lo vedremo noi non siamo come i frontisti degli sportelli bancari no noi rimarremo rimarrà il micro artigiano rimarrà il micro professionista ma il problema è l'eterodirezione appunto sono le piattaforme che li metteranno in contatto li indirizzeranno eccetera allora questa è la digitalizzazione questa è la grande incognita ed è un'incognita perché io non ho risposte e non credo che sia utile agitare spauracchi però come dire la consapevolezza è importante questa è la grande incognita sapremo noi andare oltre questo il giorno 30 faccio un po' di pubblicità agli amici di Euro Milano ci sarà un seminario in cui io interverrò su questi temi è ovvio che noi iniziamo come dire anche una dialettica tra ad esempio Ance e Asso Immobiliare sugli immaginari e questo è il tema è ovvio che noi continueremo a costruire continueremo a manutenere continueremo a demolire tra l'altro fatemi dire un'ultima cosa noi abbiamo un grandissimo problema oggi appunto in questo caso negativo se vogliamo di confusione perché abbiamo come dire oggi la necessità e poi il presidente dettore lo fa per primo ma di parlare di rigenerazione urbana intendendo anche quello che Claudio diceva edilizio di sostituzione ma insomma demolizione ricostruzione ma in realtà lo dico a Stefano io per primo lui ancora meglio di me eccetera a partire dagli anni 60 io allora ero infante ma insomma una memoria familiare abbiamo costruito un immaginario esattamente contrario allora oggi come dire il pregiudizio anche di una classe politica è fortissimo in questo senso cioè rigenerazione come demolizione è qualcosa che è come dire è un'eresia per una classe dirigente per un pregiudizio ecco cioè noi abbiamo come dire tante incognite analogiche digitali sulle quali sulle quali dobbiamo riflettere l'ultimissima cosa che vorrei dire io quest'anno purtroppo ero impegnato altrove immagino che il dettore sia stato presente ma l'anno scorso ho assistito anche il suo intervento al convegno degli amici gestionali su smart home voglio dire smart home è Gevis è Sky cioè dove siamo noi in smart home il problema qual è è che la loro idea di diciamo di smart home è molto smart e poco home nel senso che non conoscono il prodotto ma il problema nostro è che il nostro prodotto va rivisto e ripensato grazie grazie